Ehi ha ragazzi, bentornati e ben ritrovati sul mio canale, io sono Magnus Alcigio piace fare la terza partita in divisione 3 La seconda partita non ve l'ho mostrata perché è vero che l'abbiamo persa E' stata una grandissima partita, molto sofferta, ma si laggava da morire E voi sapete benissimo che quando si lagga le partite difficilmente ve le mostrerò Perché dico un sacco di parolacce E il nostro caro presidente ci ha fatto due bei regalini Che speriamo che siano all'altezza Abbiamo acquistato Gonzalo Higuain Che credo che sia quello che abbiamo acquistato al prezzo più alto 16.750 crediti E poi ho voluto provare, ancora non l'ho provato veramente Salah a 3.800 crediti Naturalmente non l'abbiamo assolutamente venduto Né il fantastico Biabani e neanche Geko Me li conservo, casomai non mi dovesse trovare bene A malincuore, ma purtroppo dobbiamo sfoltire la rosa Ho venduto Minciu Quindi non potremo più fare il nostro gol Comunque andiamo ad affrontare la nostra terza partita E vediamo cosa andiamo a scoprire Ok, quindi affrontiamo più o meno la stessa squadra nostra Molto simile alla squadra nostra Sarà sicuramente un italiano Ok, non ci scoraggiamo Partiti, prima partita Partiti Ok Cerchiamo di difenderci bene E di non cercare subito Ah, iniziamo subito con le finte Dai Cerchiamo di non farci fregare Cerchiamo di non farci fregare Ok, bravo portiere Dalla subito in alto Bella, lunghissima Bravissima Lasciamo stare Ma che è ste palle Che dici? Che dici? Lo fermiamo? Lo fermiamo? Eh, madonna Perché non lo... Ok Ok E vabbè Neanche l'invio Non c'è niente da fare Ma vabbè Piano, piano Con calma Che brutto passaggio Bravissimo Gervinio Dalla subito Vai, vai, vai Gervinio Vai, all'angolato Mamma mia Andiamo 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 Bene È È tanto Porca miseria Tira Ma come si fa? Ma questo Ma non è una grande parata È lui che ha sbagliato La Quello era un golo fatto Praticamente Vai, vai, vai Vidi Fammi Porca miseria Vai, vai Vai, pipita Vai, vai Dalla, dalla Dalla a salà Dalla a salà Mettila in mezzo Cazzo Ma non mi aveva fatto Tira Ma no Ma no Ma come fai a fare un tiro così? Vai, vai, vai Vai, vai Dalla, dalla, dalla Tira No Sai la da Yam Sic Forse la goal No Fatevi vedere Fatevi vedere Fatevi vedere Fatevi vedere Fatevi vedere Vai, vai Dalla a gonzo Vabbè, vabbè Vabbè però Iguain E che cavolo Però ti stai mangiando Trenta par Sei bomber Ma Il bomber Segnano Eh, questo è fallo Ma come Ma tu la devi Diare una bomba Non devi fare Quello che hai fatto Vai E andiamo Eh che cavolo Eh finalmente Mi sembrava Leggermente In fuori gioco Però comunque Insiste Non te ne andare Non te ne andare Subito Così Vai Mamma mia Che ti sei mangiato Vai Vai Bravo Ragazzo Guarda che Gervinio sta praticamente Da solo E andiamo Gli ho fatto fare La doppietta Gervinio Bravo ragazzo Vai Addirittura Si è ritirato Ragazzi Si è ritirato Però Penso che su un 3 a 0 Ci daranno la vittoria Però eh Il ragazzo Si è disconnesso I tre gol Ve li farò sicuramente Vedere perché Abbiamo avuto tante occasioni Ok Vediamo un pochettino Almeno vediamo Come si comporta Anche su E infatti Ci ha dato il risultato 3 a 0 Mi dispiace perché Io Non sono Come vedete Anche quando perdo Vi faccio vedere Tutta la partita Perché io non mi ritiro Praticamente quasi mai A meno che non dipenda Dalla connessione Però vabbè Ci è andata comunque bene Così Sette partite Ci restano ancora da fare Tre primi tre punti Le prime due partite Come avete visto Le abbiamo perse L'altra invece L'abbiamo praticamente Vinta 3 a 0 L'abbiamo comunque già fatti Naturalmente detto Vi faccio vedere Anche il primo tempo Che comunque vale sempre bene Comunque spero come sempre Che questo video vi sia piaciuto Non vi dimenticate sempre di commentare Non vi dimenticate sempre di mettere un mi piace Noi ci vediamo sempre al prossimo video E bye bye Come si chiudici il primo tempo E dopo jusqu'à via Grazie a tutti.